Controordine cittadini, non si vota più. Potrebbe essere il leitmotiv delle elezioni amministrative di Gioia Tauro, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, elezioni prima annunciate in pompa magna, si doveva votare il 21 ottobre e con esse avviate tutte le procedure, l'iter burocratico che doveva portare i cittadini gioiesi alle urne, quindi fatte presentare le liste, candidati a sindaco e consiglieri, e a 24 ore dal deposito di firme, candidati e simboli, arriva l'alt dal Consiglio dei Ministri. Ieri mattina, infatti, il Governo, su proposta del Ministro dell'Interno, ha prorogato la commissione straordinaria che regge il Comune già da 18 mesi, per altri 6 mesi, si andrà a votare in primavera, con grande sbigottimento dei cittadini, ma soprattutto dei candidati che hanno dovuto riporre nei cassetti santini e facsimili elettorali e imprecare questa volta per il nuovo rinvio. Ci chiediamo, non era più logico rinviare il tutto la scorsa settimana, quando erano state già spostate altre elezioni, come per il Comune della Piana, Laureana di Borrello, ed evitare questa inutile rincorsa alle elezioni, ma si sa che in Italia c'è poco di logico e tanto di illogico, soprattutto quando la politica farfallona si incrocia con una burocrazia sclerotizzata da cui nasce un coacervo indecifrabile. Sta di fatto che i quattro candidati a sindaco, Nicola Zagarella, Raffaele D'Agostino, Aldalessio e Giovanni Puccio, sono rimasti con la mano in bocca e sospesi per altri sei mesi, in attesa di ributtarsi in una campagna elettorale perpetua e allo stesso tempo a singhiozzo. Aldalessio, uno dei quattro candidati alla carica di sindaco, si rincuora con un messaggio sui social, bacchettando chi ha rinviato l'appuntamento elettorale e consolando i propri supporter. Ancora una volta il popolo gioiese, scrive Alessio, viene privato della libertà di scegliere la sua forma di autogoverno cittadino. Sei mesi passeranno in fretta e noi faremo le nostre politiche attive per la città. Forza e coraggio!